Oggi siamo qui per portare il progetto Esprit che è un noleggio di veicoli elettrici un po' diversi dal solito, anziché avere un noleggio dove uno parte con la vettura e deve riportare la vettura nello stesso punto, è stato pensato per noleggi one way, cioè prendo la macchina dove mi serve e la lascio dove devo arrivare senza dover tornare indietro, però per fare questo abbiamo dovuto creare anche delle possibilità di ridistribuzione di queste macchine in maniera intelligente, perciò veicoli che si caricano molto velocemente, un'autonomia di 65 km di range che si caricano in 10 minuti, poi veicoli che si possono connettere uno all'altro, perciò si riesce a fare un trenino, perciò una persona può riportare dai punti più esterni rispetto alla richiesta, riportare nei punti nevralgici le macchine, un operatore ne può ridistribuire 6 alla volta, perciò questo dovrebbe aiutare l'utilizzo. Questo noleggio è mirato sul last mile, perciò pensato nelle periferie delle città dove gli utenti partono da casa, trovano nel giro di 500 metri questi sharing e vanno alla stazione del treno, dell'autobus, comunque più comoda per loro per andare al centro città, perciò non è pensato per lunghi viaggi ma per proprio il last mile.